Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti, io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo i movimenti energetici emotivi della prima parte di febbraio, verso metà mese pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo vi invito ad andare ad ascoltare anche il vostro ascendente e il vostro segno lunare. Ho pubblicato un video a tal proposito che spiega come interpretare diciamo al meglio le letture e come unire i messaggi dei terraroscopi, quindi di quello solare, di quello lunare e di quello dell'ascendente. Vi lascio il link sotto in descrizione. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche emotive per la prima parte di febbraio 2022, grazie. Abbiamo il mondo. Cari amici dell'Ariete, il mondo parla della chiusura di un ciclo e dell'apertura di un ciclo nuovo. Qui potrebbe far riferimento a quello che è un cambio in positivo, perché il mondo parla sempre di quelli che sono i cambi in positivo. Per qualcuno potrebbe far riferimento anche a un bambino, quindi se non è quello che volete, insomma, fate attenzione e se invece è quello che volete, avanti tutta. Ok? Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa vi dicono. Una carta in apertura per gli amici dell'Ariete, per piacere, grazie. Grazie. Abbiamo Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Quindi può essere che per qualcuno ci sia un qualche tipo di influenza legata a qualche credenza, direi, no? Perché poi alla fine la religione, non mi voglio esprimere troppo a tal proposito, però sono comunque dei, come vi posso dire, delle traduzioni filtrate dalla mente umana, ok? Ogni tipo di religione c'è i suoi pro e i suoi contro. Però ecco, diciamo che ci sono probabilmente per il tipo di ambiente in cui siete cresciuti, per il tipo di, magari, amici o magari di lavoro che state facendo, o per il tipo di cammino spirituale che avete intrapreso, ci sono delle cose che comunque vi condizionano. Quindi sono condizionamenti mentali. Wow! Anima gemella! Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Quindi se avete qualcuno e magari vi stavate chiedendo se potesse essere la vostra anima gemella, direi che questa è una conferma. Se non avete nessuno, potrebbe essere che stia arrivando. Terza carta, meriti amore. Wow, che bella questa! Sei degno di essere amato. Ecco, la leggo molto alla prima, alla questioni, diciamo, religiose, perché molte volte diciamo che c'è un'interpretazione che punta più al senso di colpa che non all'amore, ok? Quindi ditevelo tutti i giorni, io merito di essere amato, io merito di essere amata, io merito, proprio così, come un mantra. Ripetetevelo continuamente, ok? Vediamo se riesco a farlo stare tutto. Ok. Bene. Guardiamo che cosa hanno da dirvi i tarocchi. Andiamo a vedere un po' più nello specifico come sarà il movimento energetico di questo periodo. Ok. Abbiamo un 3 di pentaco, scusate, un 3 di coppe, un 4 di spade, un 9 di coppe. Dunque, per quello che riguarda il 3 di coppe potrebbe fare riferimento a un incontro o un re incontro. Magari è l'incontro proprio dell'anima gemella di cui parla questa carta, ok? O potrebbe essere un re incontro con qualcuno. Parlano normalmente di celebrazioni, di quelli che sono dei festeggiamenti, quindi sento che si parte con un'energia felice, allegra, sguazzina. Ok. Il 4 di spade, invece, giusto per rimanere un po' in tema, insomma, e non farci mancare niente, parla di quello che è un periodo in cui magari voi adesso siete in fase di transito e state comunque cercando di ricaricare le pile. Per molti versi c'è qualcuno che ha bisogno di stare bene emotivamente, fisicamente, c'è bisogno di una sorta di rigenerazione emotiva, sento, ok? Abbiamo anche un 2 di spade e qui sento che c'è la necessità probabilmente di fare questo cambio, ma è una decisione che ancora non viene presa, ok? C'è confusione comunque, non si vedono chiare delle cose, magari ci sono dei dubbi su come muoversi all'interno di questa relazione o di questa situazione. Abbiamo poi un 5 di bastoni, infatti sento che comunque ci sono ancora dei conflitti che possono essere esteriori, nel senso che possono essere conflitti che magari avete con l'altra persona, possono essere conflitti interiori o conflitti voi, magari anche solo con il modo di pensare esterno, ok? Non necessariamente con una persona in particolare. Comunque sì, ci sono questi conflitti che comunque sono presenti, ma lo dice anche il 2 di spade, no? C'è molta attività mentale. Abbiamo poi un 10 di bastoni e la forza, wow, finiamo in bellezza perlomeno. Quindi questo 10 di bastoni potrebbe fare riferimento a quello che sono dei pesi che vi portate dietro, un qualche tipo di nuovo anche qui di ciclo che si deve aprire e chiudere, ok? E poi la fine della stesa ha la forza che può essere il coraggio di dare un taglio a questo tipo di situazione un po' conflittiva, un po' così di lotta che si ha, ecco. Ok, andiamo a vedere nello specifico perché ci sono queste carte, ok? Andiamo a vedere di che cosa mi parla il 3 di coppe. Ok, abbiamo la morte, guardate, carta di rinascita, chiusura di un ciclo, apertura di un altro ciclo e il matto è uno 0, ok? Anche questa figura che c'è qui sembra uno 0, quindi anche qui compimento di un ciclo. È come se qualcuno stesse festeggiando o la riuscita di qualcosa o un nuovo inizio, perché comunque il matto parla di quello che è avere fiducia nella vita, il buttarsi con fede in quello che è probabilmente quest'unione, questo incontro o questo tipo di trasformazione interiore che sta avvenendo qui o che dovrebbe avvenire qui. Quindi probabilmente la trasformazione è proprio buttarsi con fiducia. Andiamo a vedere il 4 di, ok, spade, abbiamo una regina di coppe, un 5 di pentacoli, di nuovo un 5 di bastoni, ce l'avevate anche qui, e un 6 di denari. Sì, probabilmente qui qualcuno è in questa fase di riposo a cui accennavo prima, di nuovo 5 e 5, ok? Quindi sento che per certi versi qualcuno potrebbe aver sofferto di un qualche tipo di disputa, di bisticcio dove si sono perse materialmente delle stabilità. Anche se poi alla fine è come trovare un nuovo equilibrio, trovare una nuova stabilità, però questo ha costato energia, nel senso... Si è fatto fatica per certi versi, no? Anche magari ad accettare quello che poteva essere questo tipo di conflitto, di perdita, di... Qualcuno ha dovuto lasciare andare, sento. Allora, andiamo avanti con il 4 di coppe. Andiamo a vedere. Abbiamo un 9 di spade, un re di denari al contrario e la giustizia. Sì, qui sento che, allora, per qualcuno può essere che con questa giustizia ci sia la necessità di avere un qualche tipo di giustizia in una situazione che magari è stata questa, quella di conflitto, ok? Per altri la giustizia può fare riferimento a un qualche cosa che viene fuori in un certo modo, non la giustizia ha una spada, taglia quello che non serve più, quindi potrebbe anche fare riferimento da un punto di vista pratico, visto che comunque qui c'era un qualche tipo di perdita a livello pratico, potrebbe fare riferimento a qualche pratica burocratica, ok? Non lo sento tanto in questo senso, ma magari a qualcuno potrebbe risuonare. Però ce l'ho forte questa cosa della questione materiale, è come se qualcuno dicesse sì, ok, basta con queste situazioni legali, basta con tutti questi fogli, voglio solo star tranquillo o tranquillo, voglio solo riprendere le mie forze, voglio solo ricominciare, dedicarmi a me, insomma. Per qualcun altro, magari se non avete nessuno, per esempio, potrebbe essere semplicemente il fatto di volersi lasciare indietro questo tipo di figura, magari potrebbe rappresentare una relazione passata, insomma. Si vorrebbe trovare quello che è un nuovo equilibrio. Vi faccio vedere che qui c'è sei di pentacoli che fa riferimento a quello che è un equilibrio e anche la giustizia di fianco, quindi si cerca proprio questo tipo di… Ma io sento che qualcosa in quello che è la vostra realtà di adesso, qualche cosa cambia col mondo. Andiamo a vedere l'indecisione del 2 di spade, a che cosa è dovuta. 10 di coppe. 10 di coppe poi abbiamo. 4 di bastoni. Fante di spade. E l'imperatrice. Qui sento forte riferimento a quello che potrebbe essere l'unione con queste due carte che avete con questa persona di interesse, ok? E in qualche modo il fante di spade mi parla di quello che è un controllo, ok? O visto che è un fante e abbiamo l'imperatrice di fianco, potrebbe fare riferimento a quello che sono dei bambini. In fondo all'inizio parlavo anche di bambini, no? Per certi versi qualcuno è indeciso, non so bene che cosa fare. È un po' come se stesse affrontando quello che è… Sento la religione di nuovo. Certi dogmi mi dicono. Sì, comunque è un qualche cosa che ha a che fare con la relazione. Se non avete nessuno, di nuovo, è un qualche tipo di attitudine, un qualche tipo di pensiero o di forma pensiero che voi avete nei confronti di quello che è una relazione, di quello che è un'unione o l'amore in generale, ok? Bene, andiamo avanti con questo 5 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un re di coppe e un set di bastoni. Anche qui sento che… Qui la reticenza, diciamo, è vostra nei vostri confronti. Per certi versi sento che c'è bisogno di ascoltarsi. Allora, il re di coppe è la connessione con il lato emotivo. E questa carta, potete anche vedere proprio voi la figura, ci sono questi bastoni che, come dire, vanno a disturbare questa persona e lei gira la testa dall'altra parte, no, ok? Io mi concentro su quello che voglio io, non mi voglio far distrarre da tutte queste energie. Per certi versi è un po' come, ok, rimanete focalizzati sul vostro lato emotivo, sulla vostra connessione spirituale, su quello che è buono per voi, su quello che vi fa star bene. Non vi fate traviare da altre energie, ok? Andiamo a vedere questo dieci di bastoni, perché il dieci di bastoni parla comunque, come dicevo prima, della chiusura di un ciclo e dell'apertura di un altro ciclo. Mi parla di quello che è lasciare indietro determinati pesi, determinate aspettative e responsabilità che magari si hanno o si pensa di avere. regina di bastoni, al contrario, vi faccio notare che sono usciti re di coppe e regina di coppe, così, tanto per. Quattro di spade un'altra volta ce l'avevate qui. C'è bisogno di riprendere in mano il proprio potere personale, c'è bisogno di riprendere in mano, anche di nuovo, a livello di gestione delle cose quotidiane, sento. E' un po' come ritrovare gli equilibri, dicevamo, no? Perché comunque il quattro di spade, di nuovo, parla di quello che è farsi un riposino per recuperare le forze. Ok, andiamo a vedere la forza. Abbiamo un quattro di coppa al contrario, vediamo che altro. Wow, è volato. E l'appeso al contrario, quindi qualcuno si decide. Sento che alla fine del periodo qualcuno vede quali sono le potenzialità della situazione, della relazione, o come, diciamo, districare la questione, ok? Perché comunque il quattro di coppa ce l'ha al contrario e anche l'appeso ce l'ha al contrario, quindi qualche cosa si sblocca. C'è un movimento, c'è una nuova presa di consapevolezza, c'è quello che è un'apertura. Se vogliamo c'è il cambiamento, il mondo parla fondamentalmente di cambiamento, ok? Quindi, bene, sono belle carte. Comunque è un buon periodo, c'è una buona energia, d'accordo? Sì, però, lavorate tutta questa zona di pensieri, tutto quello che è, se vogliamo, anche l'attaccamento a quello che è stato. Trasformate, avete la morte, avete bisogno di fare questa trasformazione interna prima. Ok, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho, quindi quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto vi ricordo che se volete contattarmi, trovate l'email sotto la descrizione di ogni video e nelle informazioni del canale. Se poi volete supportare il canale, potete mettere un like, iscrivervi se non l'avete ancora fatto e condividere. Bene, conscio e inconscio per gli amici della riete. Ok, guardate, esaurimento. Esaurimento è un uovo di bastoni ed è un po' sento l'energia prima di questa. Ok, quindi siete coscienti che non ce la fate più, ok? Cioè, o in realtà, perché forse sono uscite così, mi sembra. O questa, no, questa era già, diciamo... Ah, ma c'è un'altra condivisione. Wow, non me ne ero accorta. Allora, sento che siete consapevoli di questa sorta di esaurimento. C'è un qualche tipo di situazione, argomento, relazione, movimento energetico, qualche cosa che comunque sta creando questo tipo di esaurimento a livello energetico. Sono due nove, vi faccio presente. Il nove è una carta di iniziazione. Avevate un nove di coppe anche qui. Questo è un nove di bastoni, questo è un nove di pentacoli. I tempi sono maturi, i tempi sono maturi per condividere. Quindi, anche qui, quando parlavo di quello che è il cambiamento della routine quotidiana, può anche essere che semplicemente ci sia sempre solo una persona che si occupa delle faccende di casa e invece adesso è ora di ricalibrare i compiti. Perché comunque avevate da qualche parte un dieci di bastoni. Ce l'avevate? Mi pare di sì. Ah, eccolo qua. E quindi appunto si tratta di lasciarsi indietro determinati pesi, determinate responsabilità o perlomeno di condividerle, ok? Quindi imparate a lasciare andare per certi versi. Ok, andiamo avanti e vediamo un messaggio da parte di questi oracoli. Ok, wow, the chaser. Qui si parla di codipendenza, ok? In effetti c'era anche un 5 di pentacoli, che è un po' la carta che a me ricorda la codipendenza. Questa voleva uscire, la prendiamo. E parla di quello che è una paura... Sì, una paura in quello che è l'abbandonarsi, ok? I fattori religiosi qua giocano molto, ok? Fate attenzione a quello che è il... Mi sacrifico per avvicinarmi all'altro, sacrifico me stesso in nome dell'amore, perché si merita di essere amati, ok? No, nessuno di due si deve sacrificare per l'altro. Deve essere una... Deve essere una cosa in comunione, ok? L'altra carta che voleva saltar fuori, o meglio che è saltata fuori, è barca. Ricevendo quello di cui hai bisogno, progressione, arrivando, muovendosi, chiudendo questioni. Ed è il mondo, fondamentalmente. Apertura di un ciclo, o meglio, chiusura di un ciclo e apertura di un altro ciclo. Quindi sento che qualche cosa si muove, un po' come se iniziaste ad alzare la testa. Ok. Un ultimissimo messaggio da parte delle fate. Encore un messaggio per i nostri amici della Riesa, per piacere, grazie. Ok. Rispetto, wow! Va giusto a tema con quello che ho appena detto. Vi faccio notare che qui la Fatina si sta facendo il bagno. Quindi, quello che percepisco io è che il rispetto è prima di tutto verso se stessi. Se si impara a rispettarsi, automaticamente anche gli altri ci rispettano, ok? Bene. Bella lettura, amici della Riete. Io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! Ciao! Grazie.